mi ha detto che c'è una lingua che è tante e coce, mi ha detto vanno da soli e che te ne riesco, mi vergogna c'è stata la Quintana, dopo la Quintana che fa? andiamo a vedere le fotografie, non siete a vedere le fotografie? siete, vabbè questa tutta la sfilata non è riuscita mai non so più che riuscite a capire se c'è me l'idea non si è capito o che sta facendo la processione ragazzi, avete visto? va dai su, non si fa la dama che questa la siete guardata com'era tutta rifatta? si può fare la dama alle persone che tutta rifatta? pure rifatta male? pure rifatta male, no, pure rifatta male, vede? questa, la fortuna di questa, sai che è stata? quando passava questa, mi stia stretta in mezzo alla gente caso non mi era cascata io a terra ma i peggiate proprio, dicono, non mi sento male ma erano peggiate di persone questa, ma siete viste, la scioppa cava? era scioppa questa? era scioppa no questa c'aveva il mignolino del piede sinistro che ti face male perché non c'ha l'inghia ma non le puoi fare fare la dama una col mignolino roccato no, no gli occhi, come nemmeno, la bocca e no no, no il mignolino roccato e il mignolino roccato questa troppo la mia cittura no, atto che c'ho un pezzo a viso no, atto che c'ho un pezzo c'è 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 un pezzo le prevelle c'è un pezzo c'è un pezzo non è i pezzo in agosto non si cambiare non si cambiare questa è la moglie di qua�burnia perchè non mi viene a migliorire la Catania là questa siete visto laretta luce belle vi siete addomanezi perchè? questa porta d'orecchio a sventola che fa paura ti l'ha inzaccata la te, capite? questa? avete visto questo fenomeno? sei a fare le lampade a luglio che fa la quinta in agosto o intelligente battola pure su un pollo ma dai, su questa? volevo parlare di questa? questa cacciata di quattro e questa è vita non è male, figlio mio tu sei di boccadonna forte ma dai chi è moglie? ma questa è bella però andate per me andate a cacchelle oh ma non si può guardare ho un super schieno signor io mi preoccupo questo questa è cacciata di quattro e questa è cacciata di quattro e ragazzi sicuro questa? questa quando è passata mi è lasciata senza fiato sono fatta non mi senti male questa vuole fare pure di questa? questa è bella è un cesto cibo guarda guarda lì dietro pare uno cavallo adesso questo? vorrebbe di pure di questa? si ma con lo spazio che mi senti da questa è la zoppa no no ma questa è bella di fronte a me io te la facessi vedere la mattina quando salta io ho bella proprio di fronte che sta a prego bestiare dico me la vede lo chiude perché si può guardare no tu dico perché non si facciata di marito ma non va a venire per me che so di Dio che so di Dio io? la verità so di Dio ragazzi so di Dio solo la verità vediamo la prossima